Striscia la notizia cambia conduttori, da quando vi starete chiedendo? Ebbene dal primo aprile 2024, o meglio cambia una parte di conduzione. Infatti Gianni Scotti rimarrà a condurre il TG satirico per eccellenza di Antonio Ricci, quindi rimarrà a saldo al suo posto dietro al bancone di striscia, però vicino a lui non ci sarà la bella, simpatica e sempreverde Francesca Manzini, ma ci sarà la encomiabile e magnifica Michel Hunziker, quindi Michel Hunziker andrà a prendere il posto di Francesca Manzini, quando dal primo di aprile 2024, tra pochi giorni. Quindi Gianni rimane fisso al suo posto, la bella Francesca Manzini, diciamo così, che lascia il passo, o meglio viene sostituita, dalla buona e simpatica Michel Hunziker dal primo aprile 2024. Iscrivetevi al canale, vi ricordo che Michel rimarrà alla conduzione del programma in questione fino all'ultima puntata di questa 36esima edizione del TG satirico di Antonio Ricci. Iscrivetevi ai commentari, ciao e una buona giornata.